L'altro giorno ho incontrato il professor Trenti, quello che è stato preside che è in pensione. Allora è il papà di quello che ha fatto la conferenza sulle famose galassie, quella conferenza che l'aveva messa in crisi religiosa, che ne abbiamo parlato, che è 74 miliardi di gatti, eccetera. Allora questo professore ha fatto un regalo ai suoi genitori per, mi pare, il quarantesimo anno di matrimonio, per un anniversario, e li ha portati a Tokyo. Sono tornati da Tokyo e, ripeto, li ho incontrati, li ho proprio incontrati dove c'erano i vigili, di fronte a San Pietro. E vedo, stammi, e diceva, dottore, sono proprio deluso. Ma cosa è successo? Siamo stati a Tokyo. Un ordine, una pulizia. Lei dovrebbe vedere i pensionati la mattina alle 5 con lo scopino nei giardini a pulire le piccole cose che possono esserci per terra. Dice, guardi, i treni, i treni, ma date un esempio, cioè, se tu devi salire sul vagone numero 5, c'è un posto dove c'è scritto 5 e lì sono tutti in colonna. Il treno arriva e la porta si ferma esattamente dove c'è il 5. Non è come che chi da noi che ti guardi, ti corri, tutti a core, perché il vagone è di sotto, o se prima l'era De Drio. E lei è rimasta stupefatta dall'ordine, la pulizia e la silenziosità della gente. Anche se le strade, mi diceva, non hanno nessun segnale. Non c'è scritto via Bettinazzi, via Segantini, via Picco Palino, via antifascismo, tanto per ricordare il nostro Olivieri. Ecco, voglio dire, lei è rimasta stupefatta. Ed era avvilita, perché tornando ad Arco, non dico che si è sembrato arrivare ad un porcaio, ma insomma, se no quasi, perché ha trovato i giardini in disordine, l'ha trovato che per terra è una roba, le bottiglie della birra. Guardate, bisognerebbe che la televisione forse facesse dei servizi di educazione, perché io tutti i giorni, venendo da via Bettinazzi a via Galas, quasi tutti i giorni trovo un pacchetto di sigarette vuoto buttato per terra. Se venite qui alla Cop, nella piazzetta, vedrete le lattine o di Coca-Cola o di birra buttate per terra. L'altro giorno vago, cioè vedo che uno dal finestrino gli butta fuori un sacchettino con dentro della roba. Tanto che pensa gli altri, tanto che pensa gli altri. Allora bisognerebbe fare un'operazione dei nostri politici, mandarli a Tokyo o pregare quelli di Tokyo che venissero a fare educazione civica a noi. Io invito tutti, se vedete una carta per terra, però il nostro signor sindaco Betta, per conto mio, dovrebbe mettere più cestini, perché se voi guardate quando c'è una manifestazione in piazza 3 novembre, non c'è un buco dove mettere le cose, solamente il Pierino ha lì tre contenitori, se no c'è un altro, mi pare lì all'angolo dove c'è il tabacchino, ma mancano i contenitori. Quindi non è una spesa enorme, ma mi non so, non lasciamo perdere. Del sindaco ne parliamo un'altra volta, perché oggi sono mal disposto.